ma perché? ma ziii bro che bello no è bellissima vai vieni nonno vieni a vedere la macchina ma non devi cambiare donna che bella si illuminano gli occhi è la mia macchina vediamo la reazione della mamma ma che bella bella una cappotta cazzo è nuova sto mangiando un mandarino per quello dammi un pezzettino cade dentro bella devi tornare a farco la guida no guarda io ti potrei bicchiare bellissima e questa sera si va a fare le prime reaction serali oh gli faccia thomas e due posti bello zia per forza due posti cosa doveva essere allora vediamo la reazione di nostro fratello Teo bella bella non so perché non me l'immaginavo grigio rossa è più bella perché lui specificiamo e lui sapeva che macchina andava a vedere bella cazzo te gusta pensavate che avessi preso qualcosa da tipo 30.000 euro trazione è il posto giusto però zio va di traverso comunque forte fidati un po' la l'Alex Choi ha due miliardi di patrimonio io ho due euro di patrimonio i circhi è larga come il tuo booty dimmi se ti sembra corretto ci sono i posti per i disabili e tu hai parcheggiato nel posto delle persone normali lascio allora com'è vieni 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 è un uova è un uova è un uova zio come la mia Ferrari bro rossa è perfetta zio cambia è goduriloso 100% adesso però abbassare è autobloccante un uova se trovi olio dimmelo è inutile che cercate i difetti bastardi non li trovate oh con questo qua fai il metro verso infatti stiamo andando andiamo andiamo facciamolo siamo pronti per vedere la reazione di Phil e Jack allora Ivan è venuto a trovarci con un uo e mezzo quindi adesso vediamo senti il rumbo senti il rumbo non mi da di elettrico non è mai elettrico bro vecchio allora finchia ma vai rossa così che stiga è rosso Ferrari io amo le cabrio portami il carro in giro bello che stile cazzo è divertente questo vero ah che bello no che ridere bellissima tanta roba cazzo potremmo prenderne una comunque approvata dai approvata approvata sai che io ho paura a farla vedere ho paura che la gente si aspetta tipo una roba tipo da 50mila euro no ma invece guarda che è la cosa che hai qua no no invece ci sta io approvo basta solo che la fai arcobaleno è un gioiellino bello vecchio che stile cazzo ma molto italiano che fa la dolce vita cosa ne pensi figata pazzesca adesso invece vediamo la reazione di Peterovski Vassiloski plasato nel blocco sai che cazzo aspetta ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma zio ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo zio perché ha trazione posteriore non lo so ma perché cioè così a caso ma frate ti piace? ok però comprata comprata tua? si mi sembra strano mica però è bellissimo che cazzo mi era? ah 130 ok proprio per smongolare hai fatto una mossa poi il rosso che mi spazzo c'è una roba bella è che giustamente rimangono stupiti sta cosa mi sta gasando zio guarda che bella stupendo bellissima porca tro bella ammina zio bella spettacolo questa è bella divertente Bergamo vuol dire solo una cosa è di Yenno andiamo a vedere cosa ne pensa della bestia allora so che Ivan voleva una macchina praticamente da demolire con cui divertirsi con cui fare l'ignorante senza troppi pensieri ma poi ci siamo sentiti al telefono e mi ha detto che gli sta piacendo molto e che la sta utilizzando molto quindi non penso che sia poi così un catorcio non so cosa aspettarmi raga veramente non lo so poi si è preso tipo un bmw scassato vecchio il rumore non mi sembra un'auto particolarmente sportiva ok ci sono i farini mi stiamo puntando ma è la macchina di quello tutto malato che diceva tipo che gli piace il limonore con la sua auto e che cazzo devi da guardi beh oh c'è una bella macchinina poi cabrio tra non me l'aspettavo rossa qua diciamo che abbiamo già dato chiaramente volevi il progetto per divertirti è il progetto per divertirsi let's go che cazzo mi stai dicendo ti piace eh devo frapparla no 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 è bella rossa l'ho presa apposta così così non devi lavorare questa volta perchè rossa sarà un disastro ti piace? va più forte della Audi di me posteriore ignorante ma l'altro titolare c'è o è vinto dalla società? ma infatti quando ho visto il muso l'ho confuso con quella dentro ah minchia uguale eh uguale eh ma te l'ha regalata sai che tra questa e quella non c'è che l'ho regalata eh ma che uomo di mule non ti piace? ma no no sono appostissimo grazie sono appostissimo c'è la Giussani Mobile a casa e poi dopo adesso sono apposto così no ma è super conveniente non capito ma non è di una finita no però va molto veloce altro giro altra reaction cosa ne pensate raga? ma c'è il navigatore ma chi è stupido? più che altro c'è buio quindi non la sto vedendo non la sto vedendo c'è il tuo flash è arrivato finalmente il momento di farla vedere alla Niki che bella piccola è cucinino siamo per terra come una Ferrari tac che bella è venuta da a 18 anni allora secondo me avete già capito potreste aver già capito perché bravo non me l'aspettavo cosa ti aspettavi? non me l'aspettavo perché stavamo parlando di BMW ti aspettavo un BMW ti dico anche molto meglio colore frate fra due posti rossa la Ferrari non potevo questa ha potuto oggi è proprio bella grazie vediamo la reazione del rodri nazionale merda raga questa l'ha svolta questa è bella te l'aspettavi Billy merda no non l'hai brutto però qua il colore fa paura minchia raga stavolta ha spaccato non spacca mai niente a parte i coglioni ma stavolta ha spaccato ma stavolta bella zio bellissima te la faccio vedere dalla vetrata perché non ho voglia di scendere allora sto preoccupando non so se la vedi però non sarà in fuori perché? perché fra è bellissima è la hit non me la sarei aspettata da te esatto è bello perché tutti ci rimangono male meglio meglio questo è il top twist adesso è arrivato anche il momento di Manuel e Lore vediamo se ci rimangono male pure loro vediamo se la insultano o se piace la insulti o ti piace? no a me piace poi anche rossa vero? è bella è bella è bella è bella è caseria da guidare com'è bella sì è bellissima zio fa paura papà è tenuta da dio porco zio è tenuta meglio che la 35 figaro quindi approvata anche da voi tiene proprio di sì sta cifone qua eh sì ma più forte della tua cagata di carretta no fai serio è questa zio trazione posteriore ma te non capisci un cazzo quindi è inutile dirtelo vedi alle chiavi un porco ripone in cabrio dobbiamo impiantarla adesso vedremo cosa combina veramente quel bastardello di orso si è quasi spoilerato la macchina che fai bene sei già andato a sgommare? ovvio è bella eh ti piace è nuova fra 44.000 km è nuova è bella di brutto è così così vedi così ci sto sgommare sgomma questo è bello mica come il mio golf è arrivato anche case il proprio e frago come se ci fai bei tondi eh mamma mia se ci fai bei tondi zio minchia cabria in bmw vecchio mi aspettavo queria una summera 44.000 km minchia tsagli un male manzo che grande ti piace la macchina rossa mi fa cagare o ti piace? e mi piace e abbiamo bravo tm ma scelta trazione della parte giusta mi inserì in che stile non l'aspettavo in realtà però ti ci vedo però sì bella rossa è là minha aás? si no è veramente se lo giuro Ma veramente Non ti piace? No tantissimo 44.000 km Va Sedili riscaldati Non me l'aspettavo Cazzo te ne fai Ehi Ma lì con la tettuccia aperta fa freddo di merda Irene Ti piace o ti fa cagare la macchina rossa? Dai ma perché? E non è da te Che bella Ma che bella che è Preciso Perché preciso? Ma che vera ciccio cosa gli ho detto MX5 Davvero? A parte che voi avevate avuto degli indizi Hai detto più tranquilla posteriore Cazzo bella però La miseria o device arrabbiato oggi Dici che ci vede Eh non so se devi andargli incontro Ma perché? Ma perché? Perché no? Dimmi perché no Non è vero però perché no Rende invece Ci sta mi piace Tutto non me l'aspettavo Mi aspettavi che cosa? Sincero mi aspettavo tipo un più un più Costa Masnaga vuol dire solo Michele Molteni Si cazzo mi è stata una macchina Allora com'è? Ma che cazzo hai preso? Io Ma scusa ma Ma io mi immaginavo figa Sava venuto Infatti non ho sentito rumori Sento niente E ho detto boh sarà un robo elettrico E invece Ma che cazzo è sta roba? Ma l'hai presa dalla discarica? Dai di che non è bella o? No Bella è bella Però Cioè di solito quando tu arrivi a farmi vedere una macchina Non è un Che è successo qua? No dai Ma che cazzo? Cioè tutto figa Lo facevo io con 30.000 euro E appunto 30.000 lire Svegliati Michi Finalmente il nostro Ivan Sta decidendo di fare dei contenuti un pochino più Diversi Sempre solite minchiate Cambio cerchione Cambio la lettone Cambio lo specchietto Ma laffa Penso sia arrivato il nostro Chi? Chi è arrivato? Adesso non è lui cazzo Ma lei è quello che va in bici Il mio giorno Ma questa macchina È quella Sì Ma lo sapevo Io me lo aspettavo un pochettino Perché? Perché nella storia che mi so Perché si vedeva un po' la forma O è una Lotus Non c'ho 100.000 euro È una Lotus che voglio Questa è 100.000 euro Questa è la realtà del YouTube Italia Ehi, ehi, ehi Io mi dissocio Io ho una Lotus Omani vado ad ordinarla Compriamo tutti e tre Andiamo in giro a fare Se siete uomini Io un'altra l'ho trovata per te Bianca Quanto? 15.000 Quanto? Mezzo Un quarto di un video E 30.000 No, vaffanculo 8.000 euro Ma il povero Allora, non si può dire Cosa in realtà sto cercando No, è vero, è vero Ma lui lo sa? Ehi, no Non lo spoiler Cioè, qui stiamo registrando Una reaction Entra là Sì Sono in un video Di qui stanno giussando Reazione di Sina Iscomming Posso guardare o? No Vieni qua No Ti piace? Mi ha servosto malissimo Ma perché tutti ci rimangono male? No, è bellissima Mi piace tanto No, più che altro Perché è una macchina che piace a me È strano Che bella Bella Con trazione posteriore Che storia Se almeno lo sapevi Lo sapevi Sì Ma non è una macchina da te però Ma poi è nuova patocca È una macchina da te La macchina è bellissima Però non ti vedevo Dei cifro È strano È strano Perché è una macchina Che mi prenderai io Ma scusa Ma prova un attimo A entrarci Perché a te non ci stai qua dentro Devi aprire il tettuccio Per farlo entrare Però Che cazzo Un po' il tetto Un po' il problema Ma che bello Come fosse tua Tranquillo Ciao Dennis Il cambio È perfetto È zio È piccolissimo È nuovo È nuovo Dai Sono contento Che sta piacendo la gente